Sì, la più bella è la prima perché non avevo mai vinto il Coppa Europa e ci ho provato, all'inizio provavo a fare un po' il buco, però vedevo che non riuscivo a prendere coi metri. Dopo i giri seguenti ho provato a accelerare e mi ha lasciato un piccolo buco e sono tirato dritto. Infatti sei passato in testa in ogni giro, già al primo giro ti abbiamo visto guadagnare un 4-5 secondi sugli altri, quindi ti sentivi bene sin dall'inizio? Sì, in salita facevo un po' fatica, però appena iniziava il piano provavo sempre a aumentare un po' l'andatura. Quanto è importante vincere con un tale distacco anche per te e anche per il resto della stagione? Sicuramente fa bene al morale, è sintomo di forma positiva e speriamo alle prossime gare. Il carattere non ti manca, l'hai dimostrato anche quando hai esordito in Coppa del Mondo tenendo Bolshunov, quindi proprio qui volevo arrivare, dopo questo risultato sogna adesso il ritorno, la chiamata per la Coppa del Mondo? Eh, speriamo di sì, spero di aver dimostrato che ci sono. Un risultato veramente importante, l'ultima cosa volevo chiederti sulla pista quanto è dura? La pista è durissima, soprattutto le salite perché sono salite lunghe 3-4 minuti e poi ci sono anche discese lunghe, però le salite sono molto impegnative e le curve anche.